Avete analizzato questa sconfitta, cosa non ha funzionato a Brindisi? Sì, non abbiamo fatto, secondo me, rispetto alle altre partite, non abbiamo fatto la miglior prestazione di quest'anno. Le altre partite, anche se non è arrivata la vittoria, abbiamo comunque portato a casa la prestazione senza punti, purtroppo. Abbiamo lavorato per portare più punti possibili a casa questa domenica. Due partite da titolare, qual è stato l'impatto su questo campionato? Sì, sicuramente è stato un impatto negativo a livello di squadra, perché alla fine l'unica cosa che conta è portare sempre il risultato a casa. Io e tutta la squadra stiamo cercando di limare gli errori che non ci portano alla vittoria. Come ti stai trovando in questo gruppo e con Mr. Panarelli che tu comunque già conoscevi? Sì, ho avuto Mr. Panarelli a Taranto due anni fa, dove abbiamo raggiunto la finale play-off. Con il gruppo mi sto trovando molto bene, siamo tutti ragazzi giovani, ambiziosi e vogliamo arrivare più in alto possibile. Domenica ci sarà questo incontro con la Putiolana, come vi state preparando? Abbiamo preparato la partita basandoci su quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre qualità, cioè quelle del gioco. Dobbiamo cercare di tornare a fare prestazione perché solo con la prestazione potremo portare il risultato a casa. Per chiudere, ci sono anche diverse partite che purtroppo saranno annullate. Come si vive in campo questa situazione? Sì, purtroppo è un periodo che danneggia un po' tutti, non solo il calcio. Noi stiamo cercando di fare vita sana per evitare queste situazioni e speriamo che riusciremo a fare il maggior numero di partite per avere continuità nelle prestazioni. Grazie. Grazie. Grazie.